Molière è tornato a Versailles In onore del 400esimo compleanno dell'artista tanto amato da Luigi XIV, la città di Versailles ha deciso di dedicare a Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière, una statua a pochi passi dalla stazione. La scultura, realizzata presso la Fonderie des Coubertins da Xavier Veillant, sarà priva di piedistallo per onorare il rapporto di vicinanza con il pubblico che caratterizzava Molière. Ho voluto realizzare qualcosa che rendesse omaggio all'artista in maniera classica e tradizionale, ma allo stesso tempo desideravo che la scultura fosse moderna, così da essere accessibile a tutti. Infatti a rendere speciale Molière era proprio la sua personalità battagliera. Se fosse vivo adesso, probabilmente sarebbe un attore della stand-up comedy. È proprio qui a Versailles che il drammaturgo più celebre di Francia ha dato vita alla sua prima versione dei Il Tartuffo, censurata poco dopo, L'amore medico, Georges Andan o L'improvvisazione di Versailles. Per noi è come Mozart a Stadisburg. È importante che la nostra città celebri i suoi più grandi scrittori, artisti e autori. Avere una statua all'ingresso della città è un gesto di fondamentale importanza. A l'entrì della vita è importante.